Sono Negro Rolando, titolare della MIC, siamo un'azienda che produce e distribuisce materiali edili a livello di grossista perché il nostro business principale è rivolto alle rivendite edili, siamo noi il loro magazzino utile per le loro vendite. L'azienda è stata fondata nel 1970 da mio nonno e spero di portarla avanti quanto più possibile. Il prodotto cementiero più richiesto nella nostra zona è il cemento grigio Duracem e il cemento bianco Rucca Bianca. La scelta di Dalcementi o Rydelberg Materials è avvenuta più di 40 anni fa, è stato mio nonno che ha collaborato con la parte tecnica dell'allore Dalcementi per la produzione degli articoli che adesso continuiamo ancora a produrre e poi è via via maturata fino alla collaborazione attuale che riguarda sia la produzione che la distribuzione dei vari prodotti in sacchi. Il nuovo logo dei sacchi è stato ricevuto come un cambiamento rivolto alla sostenibilità del materiale ed è stato ben ricevuto nelle varie rivendite. La Rydelberg Materials è sicuramente un'azienda che punta all'innovazione, alla sostenibilità e al rapporto umano e commerciale con i vari clienti, quindi siamo più che soddisfatti del loro operato.